Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Questa è la prima camera e questa è la seconda camera, stavolta è venuto più umido ed è un po' più cancellato la parte inferiore, però guarda come va giù sotto, non c'è una terza camera, questa è una tomba e questa è l'altra tomba. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 49.9 Hz 49? Non è il bianco? Non, non è il bianco. Vedete? È il video. Vedete? Non c'è l'appartamento. 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 È molto interessante. Mi piace questo perché nessuno ha mai fatto le mesurazioni con questi equipamenti. con la combinazione. Siamo a parte del timore in Ratnica. Siamo facendo più esperimenti con l'ultra, l'ultra, l'elettrico, l'immagrazione e l'infrazione. Ci sono persone di diversi paesi, di Croazia, di Finlandia, d'Italia. Siamo cercando di vedere se la source di questi diversi paesi e vibrazione sono artificiale. Ciò che vediamo è che probabilmente sia artificiale, ma in questo momento bisogna definire i strumenti proprii strumenti per ricordare tutti questi diversi paesi e vibrazione. Ciò che ci racconta più sui per il timore in Ratnica, ma anche per il Bosnian Pyramid e l'Underground Labyrinth. Quindi i primi 4 anni del nostro progetto sono dedicati a provare che abbiamo un complexo di construzione, qui abbiamo le Pyramid e l'Underground Labyrinth, ma per i ultimi paesi, ci siamo più concentrati a ottenere la propria di questo complesso dell'antica. E stiamo spettando i hydrofoni all'interno. Siamo spettando i luoghi e i luoghi. Siamo spettando i luoghi. Bisogna fare il piombo ottico. C'è sotto l'oggetto che mette a fuoco sia la distanza. Bisogna sistemare sia il reticolo che la crocetta. Ok, si vede piccolo che c'è il reticolo dentro e poi c'è la crocetta. Ok, però è la base questa. Sì, sì. No. Sì. 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 Sì.